Guarda il disegno sulla testa, come è perfetto, e poi guarda le zampe, guarda le zampe. Flavio, girati verso di me. Perché mi fai una foto a loro? Subito. Che si vedono la roba. Con le zebrette? Eh, un bello. Vabbè, si può anche scendere, Nati. Ehi, ehi. Oh, perfetto. Vai, vuoi scendere un attimo che vi faccio una foto? No, aspetta. Ma vieni qua. Si voleva mandare la fine. Guarda, prima che se ne vanno, vabbè. Ok. No, se ne vanno. Vabbè, niente. Che brutto ti sei. Scusa, però se no, va bene. Nanzebra? No, non puoi dare. Ma che volevo la mia mostra? Non puhli darmi a me.